Continua il testa a testa fra Budone e Latte Dolce, in vetta la classifica del campionato di eccellenza regionale. Le due regine del torneo hanno entrambe vinto e procedono a Paiate nella volata finale. A tre giornate dal termine della stagione, in vetta si fa sempre più probabile la coda spareggio per decidere chi salirà in Serie D e chi invece dovrà affidarsi agli spareggi nazionali per tagliare il traguardo promozione. A 270 minuti dal termine, il calendario propone due gare in trasferta ed una in casa alle due contendenti e saranno tre impegni che dovranno essere affrontati con la massima concentrazione per evitare quel passo falso che comprometterebbe una stagione intera. Il Budone sarà impegnato alla Nusei, chiuderà a Villa Cidro con in mezzo la gara casalinga con la Ferrini per i Latte Dolce trasferti a Eglesiasi-Santiadoro e derby casalingo con l'Ossese. Nove punti in palio e obbligo per le due contendenti di fare bottino pieno. Anche in coda la situazione è tutta da decifrare, dal basso della classifica Recitarlus 25, Sant'Ele nel Nuorese 28, Monastir 29, Lanusei 32, Lipunti 33. Se il campionato fosse chiuso oggi, Arbus, Nuorese e Sant'Ele la sarebbero direttamente retrocesse, mentre fra Lanusei e Monastir sarebbe il play-out a stabilire chi dovrà retrocedere in promozione. A tre turni dalla fine però tutto è ancora in gioco. Domenica prossima in programma lo scontro diretto Sant'Ele e Arbus, in casa giocheranno i Lipunti con lo Sesi, Lanusei con la capolista Budoni e il Monastir che riceve il Calangianus. Trasferta invece per Lanurese a Villa Cidro. Il sabato di Pasqua giocheranno in casa l'Arbus con la Tarros, Lanusei con il Gilarza. Saranno invece in trasferta il Monastir a Bosa, il Sant'Ele na Carboni, la Nusei a Gavoi e il Lipunti a Calangianus. Nell'ultima giornata in programma gli scontri diretti Monastir Nuorese e la Nusei a Arbus, in casa il Sant'Ele na con l'Iglesias e il Lipunti con il Bosa. E al 16 aprile soltanto una potrà festeggiare la salvezza diretta, mentre per le altre si aprirà l'inferno dell'ertrocessione o il purgatorio dei play-out. Insomma, buon divertimento a tutti. Grazie. 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 Grazie.